e allora siamo in registrazione con faccio l'annunciatore di Daniele Scat scattizzi ciao a tutti ciao a tutti ragazzi ciao ciao grande Daniele allora io eh forse no credo che non te lo non so se tu mi pare che non te l'ho girata quando ho fatto io le pagelle dell'evento e ho fatto la pagella dell'evento nel senso ho fatto i promossi e e poi rinviati a settembre non c'è stato nessun bocciato per me io ho avuto solo i rinviati a settembre e e chiaramente tu sei stato dei cinque ragazzi che hanno combattuto due settimane fa e sei stato il promossa ah bene se lo staccavo tutto subito no 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 promossa a pieni voti promossa a pieni voti dove eh ho detto esattamente eh Daniele ha fatto tutto quello che c'era da fare quindi è arrivato lì è entrato con calma eh non è partito subito a razza era riflettuto un attimino poi è messo a parete e poi te lo sei portato a spasso un po' nella gabbia l'hai buttato giù hai preso la cioè io ti sto facendo la la tutto quello che ho visto da fuori ok non ero cioè non ero io a farlo però descrivo faccio la descrizione l'hai buttato a terra nel frattempo avevi preso una mezza ghigliottina ci sono quasi non parto subito un attimino mi posiziono meglio ancora prendo un pochettino e ora tiro boom batte ok ragazzi abbiamo trasmesso adesso va bene eh vado a prendere un caffè perché mh già si è raffreddato analisi perfetta direi direi analisi perfetta è stato proprio niente spettacolo guarda la cosa alla fortunato sono stato fortunato e insomma diciamo che la fortuna ricordati sempre io dico sempre la fortuna è laddove la preparazione incontra un'opportunità questa maschera questa matato su qualche parte del corpo queste sono cose di esperienza quando avrai la mia età anche tu ogni tanto uscirai qualche perla di saggezza bella 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 no comunque dico ora al di là dello scherzo veramente bravo molto bravo complimenti hai fatto una grande prestazione e dico tanta roba dico raccontami un pochettino tanto per curiosità e tu allora fammi vedere io vado un attimino su share dog il tuo ultimo incontro prima di questo qua che è stato purtroppo una sconfitta è stato bene un anno fa ma di più era febbraio di duemila esatto un anno e mezzo fa duemiladicianno duemiladicianno e tanto sì era era un bel po allora a parte che quel match poi lo c'è uno dei match che proprio mi fanno più schifo della mia carriera non per colpa mia purtroppo anche per colpa mia ovviamente perché non sono riuscito a fare quello che volevo fare però devo dire che quell'avversario è veramente ostico ha combattuto anche la stessa sera dove ho combattuto due settimane fa Alfie Davis ed è un match che mi è rimasto qua mi è rimasto qua perché non è stato un match per quanto mi riguarda cioè un fighter che usa molto il footwork si muove tanto è molto bravo a usare diciamo quello che è un po' Michael Venom Page quindi il point fighting però Michael Venom Page almeno ti mette capò e i cazzotti e i calci quando li mette li mette sì che si muove tanto però quando quello non ha fatto un cats posso dire parloci che era vai tranquillo tanto è come se siamo al bar quindi quello non ha fatto un cats è scappato per tre round anzi il primo round l'ho proiettato ho lanciato pure nel secondo nel terzo comunque l'ho proiettato si è rialzato è stato bravissimo però comunque le azioni le facevo io il centro della gabbia lo facevo io non ha messo un colpo a segno ne ha messi due un calcetto girato che mi ha preso i testicoli e una ginocchiata però che poi io non so uno che si lamenta quando quando perde i match perché cazzi cioè cavoli mie nel senso potete mettere cappone non c'erano storie però è stato un match che veramente mi è rimasto qua e mi hanno già chiesto rifaresti quel match ti dico no no perché proprio preferisco uno molto più forte sulla carta che magari mi manda cappone piuttosto quello a stagli appresso tutto il tempo perché veramente è noioso come match è veramente un match noioso non è il tuo stile di di avversario ideale diciamo no per niente per niente poi purtroppo dovevo ricombatte a bellator milano ottobre solo che è successa una tragedia che mi sono spaccato la mascella in due parti e si 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 ma in allenamento si pensa che poi ho preso un cazzotto dietro qua e la forza di impatto è andata a scaricare qua dove poi il dottore mi ha detto che molto probabilmente avevo già un trauma una micro frattura che ha fatto poi l'impatto di quel colpo ha fatto spaccare tutta la mascella e praticamente mi qua c'avevo la mascella aperta in due c'è un video su instagram se te lo vai a vedere che sembro predator e faccio così e ho i denti che fanno così ma quasi quasi ora siccome questa qua è una registrazione non stiamo andando live poi me la vado a cercare l'aggiungiamo impressione impressionante inizio con la lingua durante l'allenamento quindi durante l'ultimo sparring delle delle ultime due settimane prima del match perché la settimana prima del match non faccio sparring ovviamente la settimana prima della settimana del match faccio l'ultimo sparring tra l'altro leggerissimo è arrivato sto colpo del cacchio qua dietro e mi è una figa pazzesca che mi ha portato a fare sei mesi fermo fermo senza prendere colpi senza lottare perché poi mi hanno messo due placche qua a me e ce l'ho ancora che ha detto il dottore che non le leveremo perché il corpo non l'ha rigettato e non ho fatto reazione quindi me le lascio buono c'hai due placche potrei mettere qualcosa di adamagnato io ho detto ma metti qualcosa altro pure dall'altro lato così c'è la mandibola di ferro che male non fa è certo però a distanza di un bel po' senza combattere non lo so in questo caso due settimane fa come eri abbastanza nervoso tranquillo come come ti sei sentito dopo devo dirti che come tutti i miei match i giorni prima più che altro la notte prima del dell'incontro l'ansia cioè sono umano non è che la la sento ok si sente l'ansia sono uno che soffre molto poco l'ansia lo sanno tutti i miei amici io cioè i giorni prima sto lì gioco a play scherzo mi interessa e anche perché io la penso che se ti concentri troppo stai sempre a guardare i video dell'avversario entri in un loop di pippe mentali che poi ti rovinano solo il cervello io sono uno che crede molto nelle mie capacità in quello che so fare so consapevole anche di quello che non so fare e faccio quello che io so fare al meglio poi quello che fa quell'altro se è più bravo e vince faceva vinto io ho dato il massimo però nonostante tutto la sera prima comunque un po' di agitazione c'era nel senso che sentivo questa pressione di dover rifarmi dopo quella sconfitta che mi ha fatto veramente schifo che poi tra l'altro tanti dicono il primo match di Scatizzi in bellato in realtà quello non è stato il primo match di Scatizzi in bellato perché Scatizzi ne aveva già fatto un altro due anni prima e aveva vinto il capo al primo round poi Scatizzi nell'intervista se ne è uscito dicendo voglio dimostrare al mondo intero che gli italiani c'hanno il cazzo duro qualcuno l'ha presa poco bene e mi hanno bannato da bellato per due anni una follia ma hanno levato metà della borsa cioè una follia che se senti gli americani dicono parolacce ogni due o tre secondi anzi ci fanno tutta la tiri terra una storia dietro bravissimo infatti tutta sta storia non è partita dal bellator americano ma è partita dalla dirigenza che aiutava a quei tempi bellator a espandersi in Italia la dirigenza le faceva cacare e niente non gli era andata bene sta storia poi pure quando questa persona mi disse come ti sei permesso io poi ho risposto a modo mio insomma ma l'ho cercata diciamo ecco dai è assurdo questa cosa perché per il momento prendi Adesania sta dicendo di tutto e di più su John Jones almeno questo è quello che riportano offendendo la madre di John Jones eccetera eccetera però gli altri non c'è nessuno che gli dice ah le mamme non si toccano hanno questa hanno quell'altra ecco quello è sbagliato quello secondo me quello è molto grave è certo come Connor quando ha esagerato ai tempi con le cose sue non stiamo più parlando di sport e nemmeno di intrattenimento per lo sport perché io non sto parlando di te e ti dico sei una pippa a tirare i calci io sto parlando della tua famiglia che è proprio una cosa che non ci entra niente è al di fuori e lì entriamo in in cattivi esempi da seguire no come vedo ogni tanto che alcune persone scrivono le persone che chiaramente lasciano il tempo che trovano Scatizzi è un cattivo esempio per mio figlio ma con tutto il bene no poi vai a vedere poi vai a vedere il profilo del figlio ascolta Sfera e Basta e tutti sti rapper che parlano solo di droga nei bicchieri e dei cazzate fai aspetta raccontami sta cosa che non la so cos'è sta cosa di Scatizzi non è buono come sempre no ogni tanto ogni tanto poi a me mi interessa non rispondo a nessuno ovviamente però ogni tanto nei vari blog o sotto alcuni post le non sono io che le vedo dico la verità perché non li guardo proprio non seguo i blog perché io dell'MMA proprio mi alleno mi piace i combattoli ma non ne voglio sentire parlare di fuori dalla palestra manco guardo i match chi mi conosce bene lo sa e ogni tanto mi dicono Scat hai visto che hanno detto di te eccetera eccetera e mi viene da ride no cioè tipo non lo so una signora da poco ha scritto mio figlio a nove anni non gli faccio seguire Scatizzi perché dice troppe parolacce no allora a parte che è una penso sia la mia una romanità che purtroppo è difficile levare ma non è non penso sia offensiva è una romanità pure simpatica cioè io quando la sento da qualcuno altro mi viene da ride non è che mi offendo dico madonna che volgare dice le parolacce e però poi mi viene da ride perché no questa signora a me mi verrebbe da dire ma perché suo figlio a nove anni c'ha Instagram signora mia che già per me quella è una follia o perché suo figlio sull'Instagram suo segue Sfera e Basta e altri rapper che che dicono cose che veramente potrebbero influenzare malamente un bambino no io che dico mortacci tua e però su Instagram faccio sempre vedere che male no faccio vedere la vita mia ovviamente no è fatto da 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 quello tra l'altro cioè a me no dico per il momento la tua giornata tipo qual è fa schifo ma dipende dal punto di vita no niente mi sveglio ci alleniamo per le dieci con tutto il team qua torno a casa pranzo sto un po' con mia figlia se riesco a riposare riposo ultimamente c'ho molto da fare col nuovo brand Trouble ragazzi comprate tutti appena uscino scherzo è la mia nuova marca ho fatto ho fatto un nuovo brand d'abbigliamento e di duo c'è il mio eh fai vedere questa ad esempio è una canota semplicissima queste qua le bandane c'è le bandane stanno arrivando i guantoni ho fatto due due colorazioni di guantoni in tutte le taglie allora poi ci scambiamo le magliettine poi mi bello siccome noi stiamo facendo le nostre stone fighters ma solo per per pochi intimi no? ce ne scambiamo certo figo 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 ok e niente io poi lo sa chi mi segue da tanto lo sa benissimo che io non sono uno focalizzato cioè che vivo no vivo per lo sport certo ma non solo per il fighting ok mi piace tutto quello che gira non saprei fare nient'altro quindi non vado a cercare altre cose però mi piace gira tutto intorno al mondo del fighting quindi anche biglietto tecnico è una cosa che volevo fare da tanto avevo iniziato una collaborazione con un altro brand che poi ho deciso che di intraprendere una strada sola perché avevo più 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 scelte potevo fare di testa mia il tipo di materiale e varie cose che voglio fare io e tra poco uscire al sito online con tutti i prodotti li sto li sto perfezionando piano piano buono mi sembra allora vedi allora c'è una realtà per quanto riguarda i social il commercio eccetera che in Italia non si sa per quale motivo se un Daniele Scatizzi un Francesco Lapao o chi che sia crea un brand o crea un qualche cosa e giustamente se lo crei lo crei per fare soldi non è non è deve campare in qualche maniera e ha successo non si capisce perché mentre in America tutti dicono bravo sei stato un grande in Italia ah vedi quel bastardo c'è i soldi sì sì bravo figlio di qua figlio di là ma scusa dovete essere con te ma perché sei in video cioè perché questo in video questo puntare il dito contro perché infatti tu ora mi hai detto io c'ho il brand fammelo vedere io non lo conosco dico invece uno invece da apprezzare l'intraprendenza di una persona purtroppo in Italia siamo sempre così invidiamo sparliamo anzi in questo caso Daniele ti posso dire che tu stai dimostrando che è un fighter ok per chi non lo sapesse ma dico noi lo sappiamo perché magari per la prima volta vede questo tizio con la bandana così non dà solo cazzotti all'interno della gabbia ma fa anche l'imprenditore prova a fare l'imprenditore bisogna provare nella vita però dico per dire c'è una mentalità dietro ora chiaramente dico un nome scontato ma con Norma e Gregor la dimostrazione è lampante ha trovato la sua via e poi da là si è mosso per come si è mosso ecco fondamentalmente poi richiede sacrifici come in tutto non è che metà della borsa che mi è arrivata la sto investendo in tutta sta roba qua perché poi fosse facile in Italia dici apri il sito che ci vuole sì il sito lo apri poi dopo la partita IVA le tasse la camera di commercio e non si finisce più qua sì in Italia siamo un pochettino tempestati da questo qua non è proprio che dobbiamo fare buono bello questa è una cosa una cosa per i nice e quindi allora adesso allora intanto diciamo abbiamo archiviato questa questa sfida avuta ripeto due settimane fa adesso sono all'incirca che prospettiva abbiamo per il momento ti hanno prospettato qualche cosa o ancora è tutto fermo prospettato a livello di date e combattimenti ancora no però ci stanno dei progetti che già c'erano anche da prima in realtà che sicuramente si andranno a concretizzare a concretizzare sono progetti molto interessanti parlo sempre di match progetti molto interessanti ovviamente c'è sempre una cosa che non si può di niente speriamo che va tutto bene cioè mi vedete combattere presto in palcoscenici se è un certo ah e questo già è una cosa quello che puoi dire chiaramente quello che puoi spollerare senza andare in cose che ci stanno sempre i segreti quello ci sta quello ci sta è normale quindi comunque adesso diciamo più o meno tu hai il classico allenamento nel senso fai cosa sei giorni su sette di allenamento faccio sei giorni sì sei giorni su sette due volte al giorno tranne il sabato che faccio una volta sola e in più tutto quello che riguarda poi anche l'insegnamento quindi praticamente vivo in palestra perché dalle cinque alle dieci sto in palestra e insegni anche i bimbi insegno anche ai bambini e come come ti ci trovi con loro molto bene perché io sono un bambino più di loro quindi è un'altra cosa che mi piace tanto è insegnare qui abbiamo la palestra ramata abbiamo aperto un centro nuovo sottocento metri quadri due dadà cioè un palestrone gigante dove ci siamo io Alessandro Botti che è un altro fighter che ha combattuto l'altra sera anche lui Alessandro lo sentirò domani ottimo e ti dirà la stessa cosa e noi abbiamo questa anche grande passione per cercare di tramandare quello che noi impariamo o abbiamo imparato nel corso degli anni tra l'altro sbaglio o tu Alessandro siete stati avversari in passato sì è vero è vero abbiamo combattuto tra l'altro uno dei match secondo me più belli mai fatti in Italia esattamente cinque anni fa peccato che non c'è il video che non hanno mai fatto non so perché uscì sto video ah che seccato questa è una grande seccatura ma sai ti posso dire che in realtà son fighters tv è nata l'ho fatta nascere per con l'intenzione di far vedere andare su video in streaming negli eventi minori infatti negli eventi minori quelli regionali eccetera dove andiamo con chiaramente non con le super telecamere eccetera eccetera però già quando tu hai una webcam di qua una action cam di là in diretta con la telecronaca in italiano non in inglese fai conoscere i nuovi Daniele Scatizzi che ma è una figata è bellissimo come no bello sia per la promotion sia per gli atleti è bello assolutamente sì infatti è nata è nata proprio da questo proprio per quello che hai detto tu ma cavolo ci sono degli eventi minori dove già vedi degli atleti promettenti che però non li vede nessuno cioè se non c'è qualcuno col telefonino con la cosa che la riprende non si sa nulla spero spero che tu riesca a portare avanti questo progetto perché conoscendo i vari i vari organizzatori ci sarà sempre qualche problema no ma guarda io ti posso dire ho una un grosso pregio da allora tu considera io iniziai le arti marziali otto anni adesso sono 43 quando avevo 18 barra 20 anni avevo avuto un pensiero di fare il professionista ma per situazioni anche di epoche di situazioni diverse insomma poi ho preso alte strade ma ho sempre mantenuto quella zona lì no e poi già da anni avevo questo progetto di di sonfighters tv poi ho detto basta mi secca dire potrei fare faccio e sono oggi sono ho il piacere di parlare con un grande atleta come te che già solo questo tempo eh ma guarda allora tu che sei un fighter io sono un fighter più piccolo ok non al tuo livello sicuramente però il carattere è quello lì c'è uno quando incontri uno che combatte che cosa fai stai ora a parlare devo farti una domanda su una cosa che hai detto poco fa adesso te la chiedo e quindi praticamente sto facendo quello che a me piace cioè parlare con i fighter e soprattutto raccontare chi non non è ancora del mondo ancora non non conosce determinate cose e far conoscere chi sono chi c'è in bellator ok in bellator c'è Daniele cosa ha fatto ok andate nel canale vedete questo è successo così questo è successo così io do la mia opinione dal mio punto di vista da tecnico come la vedo io e insomma siamo in questa maniera allora la domanda è poco fa tu hai detto le cose che faccio bene è quelle che non faccio bene in combattimento qual è secondo te la tua parte dove ancora devi migliorare c'è sempre il miglioramento però dove secondo te è più urgente migliorare ma se mi faci questa domanda un anno e mezzo no due anni fa un anno e mezzo fa ti hai risposto sicuramente tutto ciò che riguarda lo striking quindi la parte in piedi ok box muay thai quello che sia perché tu che background hai alle spalle è perché io praticamente papà ha sempre insegnato judo io sono cresciuto col judo poi dal judo per non stare più con mio padre i soliti litigi padre e figlio sono andato a fare lotta libera grappling vabbè tutto ciò che riguarda il mondo l'ho fatto un po' perché a quello te lo sei portato a spalla a spalla bello tranquillo l'ho fatto un po' di tutto anche se poi ho sfruttato molto poco in tutti i miei match di MMA per chi mi conosce tanto cioè io ho quasi tutti i K.O T.K.O K.O perché volevo sempre dimostrare far vedere al telespettatore medio diciamo cioè nella mia testa io dicevo se io vado a fare un artbar una ghigliottina a un qualcuno il telespettatore medio guarda e dice ma che guarda gli ha preso il collo nella testa mia invece io volevo far vedere agli amici miei alla gente che mi conosceva che picchiavo le persone con le mani quindi io quando arrivavo in una posizione magari in una lotta di dominanza a terra poi scaricavo pugni comitate o quello che c'era anche se potevi fare altro diciamo anche se e spesso e spesso ci ho rimesso sono sincero spesso ci ho rimesso perché potevo magari finire come l'altra sera invece quando sai ti metti a fare il grande pound tirare i cazzotti spesso perdi stabilità l'avversario magari il colpo lo prende però poi si libera capito bisogna scegliere molto bene questi mi fa pensare Gible Burns che tu conosci chiaramente prima delle match che poi non ha fatto con Kamaru Usman diceva che essendo lui una cintura nera di Brazilian Jiu Jitsu comunque un grosso fight di Brazilian Jiu Jitsu mi ricordo che diceva sì ma io non voglio ripararmi nel Brazilian Jiu Jitsu voglio far vedere che cioè sembri lui un po' meno abbronzato però c'ho la bandana c'ho la bandana devo pensare allo stesso ragionamento certo in effetti questa cosa penso che adesso l'hai superata nel senso basta che chiudiamo vinciamo quello che sia sia anche perché se no andiamo a fare vai a fare Muay Thai vai a fare K1 e fai vedere che dai cazzotti cioè l'MMA è uno sport talmente completo che perché precluderti lo strangolamento piuttosto che una leva perché devi far vedere che sei di ragazzotti capito ma invece Arda a proposito di questo allora io quando vengono le persone io adesso ho ripreso il turno e faccio kick kickboxing leggero c'è chi fa semi contact c'è chi fa light c'è chi fa kick light considera sono molto amatoriale però è un inizio di ogni tanto spunta il ragazzo dice ah ma io voglio fare MMA io dico amore mio tu lo puoi fare l'MMA però sappi che M M A non MMA inteso come ti voglio dire vado al McDonald's MMA drive no che MMA prevede che tu fai un'ora e mezza di Brazilian Jiu Jitsu un'ora e mezza di al giorno di box più o meno poi un altro giorno ah sì no ma c'è tizio che in un'ora fai tutto come fai a fare tutto in un'ora però purtroppo la gente non come dire non lo capisce questa questa cosa dico intanto comincia comincia con qualche cosa non lo so kick lotta come nel tuo caso e poi vedi un pochettino anche se in effetti ad oggi chi proviene dalla lotta proviene dal Brazilian Jiu Jitsu come inizio è molto avvantaggiato rispetto a uno striker allora sì questa è una cosa molto comune che pensiamo un po' tutti nel senso che se prendiamo un pugile fortissimo è un lottatore fortissimo almeno che il pugile non mette proprio quel colpo che ti manda secco in quel secondo vuoi o non vuoi nello scambio pure che ti ti stordisce corpo a corpo ci si arriva nella maggior parte delle situazioni basta prendere 5 match a caso su 5 match 4 finiscono più a lottare che a tirar cazzotti quindi diciamo di sì però stiamo parlando di livelli iniziali amatoriali garete semi pro quando poi cominciamo a arrivare in livelli molto più importanti non succede più che se uno sa fare il pugilato in maniera buona o ottima ti mette i capotti e ti ritrovi a bracciare perché il pugile esperto nel mondo dell'MMA ti mette i capotti ti fa cascare col culo per terra poi si stacca e ti dice riarza e te ne arriva un altro e lì cambia la storia e lì dici cazzo dove inizia a fare pugilato vabbè in effetti per esempio l'altra volta non ricordo c'era un allievo ah sì ho cintura nera voglio arrivare sì ma ricordati che quando arrivi al cintura nera non sei arrivato stai cominciando a divertirti cioè arrivi a essere cintura nera e da lì ti diverti in che senso perché prima hai giocato poi inizi a fare le cose ti diverti sempre però è un nuovo inizio ma non so se tu hai sentito che c'è stato c'è una new entry in Bellator il cugino di Khabib Nurmagomedov sì l'ho visto l'ho visto l'ho visto che ne pensi perché mi pare che credo che sia nella vostra categoria sì è un lightweight è un lightweight allora sinceramente non posso esprimere giudizi perché non non ho visto nessun suo match il giorno in cui mi diranno scatte dovrei combattere quello allora mi vado a vedere i match se no me ne frega niente certo però ecco magari è davvero come dicono come il QG anche se ti posso dire la verità tanti di a parte Khabib che va bene tanti di quei tutti questi questi fighter dell'est quindi dagestani russi quelli su assassini c'è un po' sta mistificazione di sta gente dell'est che è per forza fortissima che sono tutti lottatori fortissimi che non è proprio così perché mi sono capitate tantissime gente tutti uguali questi qua con queste barbe così dagestani sono venuti in Irlanda l'ho incontrato perché io poi ho girato tante palestre UFC e non tra l'altro che so che sei ho saputo sei un carissimo fratello di Nicolò eh come no certo mio fratello minore sì sì e pensa che io e lui ci siamo conosciuti proprio in SBG in Irlanda vedi che cosa c'è una follia cioè lui mi conosceva già perché mi veniva a vedere gli incontri e quindi ci eravamo presentati però io che come facevo ricordavo e poi bene bene l'ho conosciuto quando lui ha iniziato a fare proprio MMA ha deciso di venire in Irlanda dove io già vivevo da un anno e mezzo preciso non mi ricordo e ci siamo conosciuti là e siamo diventati fratelli praticamente e cerco di non fargli errori che faccio che ho fatto io cioè gli dai già la tua esperienza sotto questo profilo certo che sono tanti piccoli dettagli che ti possono cambiare ma da tutto è anche solo dal tipo di allenamento solo solo dal tipo di allenamento che magari dici cazzo oggi ho fatto solo box e bgg devo fare qualcosa no 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 non serve allenarsi quando sentite i fighter quanto ti alleni sette ore al giorno non è vero se si allenano sette ore al giorno vuol dire che su sei si allenano male una si allenano bene e sei si allenano male perché è impossibile allenarsi sette ore al giorno intensivo poi se stai sette ore a piar caffè consideri quando fai la doccia allora è un'altra storia io allenamento lo consiglio da quando una volta che sono salito sul tatami inizia il riscaldamento e esco dal tatami e quindi ecco tipo sto dettaglio un fighter veramente si allena due ore e mezza tre ore al giorno divise non di più perché sarebbe impensabile quei ritmi che sosteniamo noi allenarsi così e già così arrivi a casa ma la corsa o il cardio lo consideri incluso o escluso no come no incluso certo certo delle sessioni di allenamento sì come lo strength and conditioning i pesi e tutto quello che che fa parte di questo mondo fantastico stroboscopico se finisce più ogni giorno ce n'è una mamma mia ecco invece allora adesso entro nel mondo della provocazione dico comunque più o meno nell'ambito del come voglio dire io dei social ci vai no immagino che avrai un po' visto i vari commenti chiamiamoli dei miei colleghi se così vogliamo dire dei blogger eccetera dove io ho scoperto l'ho scoperto perché avendo iniziato la collaborazione con Bellator Italia sono insieme ad altri miei colleghi e ho scoperto che non so su dieci siamo stati forse in due o forse tre non mi ricordo ma credo due ad avere una visione degli incontri leggermente differente perché per esempio l'ultima l'ultimo evento dove hanno combattuto Pedersoli e Carlo Pedersoli e Ale e ok hanno perso ma avete visto il match? no non l'hanno visto io io dico ma ragazzi ma di che cosa stiamo parlando ma di scusate allora partiamo io sono con un amico giusto stiamo parlando che siamo noi due quindi dico Alessandro si è preso un pugno un bel destro in piena anzi no scusami un sinistro un sinistro in piena mandibola fatto così ok perché poi quello non è che c'è un braccino piccolo c'è un braccino di un certo tipo è andato giù ma ragazzi ma può succedere a tutti e si è ripreso subito ma l'avete preso mai un pugno di testi nella vostra vita porco due rimanevate in coma per un mese intero capito poi dico poi tutto il resto ok ma dico quello ha preso anche lo stesso Carlo gli ha dato un middle kick al fianco e quello gli ha risposto vero che già era il terzo quarto che pigliava di destro quindi si scopriva in questa maniera però è andato giù subito l'ha afferrato l'ha ributtato cioè hanno fatto due match pazzeschi poi molto belli certo ma poi spetta spetta a chi di competenza cioè ovvero il maestro il compagno d'allenamento il team tutti insieme e analizzare oh cazzo cato gli tenne su a sinistra oppure Ale perché gli sei andato subito contro ma quelle sono cose che spetta il team sicuramente non mi fa parlare dai rompe i coglioni cioè infatti io ne sto parlando e ti sto tra virgolette stuzzicando si fa per dire perché no ma me ci trovi a me mi ci trovi perché già ho messo storie dove mi andò a fanculo tutti perché rompono i coglioni è in continuo è in continuo a livello italiano non ci siamo di qua ho detto ma ragazzi calma attenzione è vero che come già ho detto ho notato nei ragazzi in questo caso non c'è proprio nel tuo evento una carenza di difesa da takedown l'ho detto ridetto 200 milioni perché proprio e che cazzo cioè ti butti giù cioè nel senso ti fai buttare giù a meno un minimo fai finta va voglio dire dico tolto questo per esempio mi ricordo Paternò ma c'è delle sventone da fare paura detto in siciliano cafudda è un termine tecnico questo qua cioè dà delle delle bazzate di quelle paurose poi quello l'ha preso boom subito giù vero che comunque aveva un background di un certo tipo però un minimo di resistenza cavolo me tolto questo ma poi hanno fatto dei match cioè da fai cioè sono entrati sono stati si vince si perde cioè però nessuno secondo me ha fatto una figura di merda cioè che dici oh ma chi ci ha mandato al bellator questo ti faccio un esempio esatto cioè ma la gente già non capisce che se già in nove stiamo al bellator non è che il bellator pieghi italiani perché pure il bellator ha sempre io quando io sono stato pensa io sono stato il primo italiano a combattere in bellator ah non lo sapete sì perché nella stessa serata c'era anche belluardo e sagara solo che hanno combattuto nega card dopo di me quindi io sono ufficialmente il primo italiano ad aver combattuto è vinto ad aver combattuto a bell ma pure quella sera pure che era in che era in Italia era a montré esatto e c'era sagara cioè stavamo a parlare di c tre scemi c'era sagara quindi eravamo in due io e belluardo grazie a dio qui stavamo in nove in due settimane eravamo in die quanti eravamo in dieci in nove eh sì 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 eh cazzo quindi c'era non è che bellator ti piace a caso così dice vabbè facciamo combattere quello ma pure danna che match ha fatto ma di che stanno parlando danna ha fatto simone danna ha fatto un match pazzesco contro brian moore che uno non ci sta nei classifichi in bellator ma brian moore è uno dei top five featherweight di bellator però la gente è ignorante perché entra ah ma guarda peter soli e nano ko hai capito chi è quell'altro mortacci tua hai capito chi cazzo era quell'altro un assassino c'era solo due sconfitte un pazzo pure quell'altro era una best che in mossa quello di botti ci dovevo combattere l'anno scorso so benissimo che atleta di livello è cioè quello è uno che c'ha una forza fisica pazzesca c'ha due gambette così però io vi assicuro che quando vi chiude a terra non l'ho provato sulla pelle ma me l'ero studiato anche perché aveva combattuto tra l'altro con già un mio compagno di palestra di Irlanda e mi aveva già raccontato che c'ha una forza sia nel body lock quando ti chiude il busto quando ti prova a proiettare che non era facilmente difendibile ma si vede che non è mingherlino è bello è sta piazzata però a parte visivamente c'ha proprio forza capito c'ha molta forza e poi alcune cose sono andate alcune non sono andate ci sta però nessuno di noi ha combattuto con delle pippe capito in questo istante mi viene a pensare che c'è stato qualcuno ripeto sempre nelle social io sto ridendo proprio perché nel frattempo rifletto che non so chi che disse sì no aspetta chi era Alessandro no Botti lo poteva battere non mi ricordo ha detto una cosa già ha detto sì ma non è che l'avversario suo era bimbo minchia ha messo così sì vabbè ma era tranquilla capito più o meno lo poteva battere se c'ha 12 vittorie e due sconfitte un motivo c'è sta non è che non è che l'ha fatti tutti la sagra dava porchetta a Manchester la famosa sagra dava porchetta a Manchester e che cazzo ok ok siamo in linea sotto questo profilo e quindi adesso tu quindi stai a casa qua in Italia per il momento ma sì all'ecco 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 ok ma in questo caso poi quando è che ritornerai su a Dublino ecco questo è un grande problema cioè nel senso che adesso nonostante noi ci siamo lamentati tanto dell'Italia in Italia noi stiamo meglio di tutti gli altri perché in Irlanda hanno richiuso tutte le palestre bravo ah l'hanno chiusa eh sì l'hanno richiusa ehm anche in Canada sai oggi poco fa poco fa mio cugino dal Canada mi ha detto che hanno chiuso bar hanno chiuso bar ristoranti e palestre hanno chiuso è la stessa cosa siccome io cioè che vado a fare in Irlanda se la palestra è chiusa e tra l'altro c'ho anche la ehm la camera dove dormo che Superbia mi ha preso per tutto l'anno il mio management sta dentro proprio la palestra quindi non ci posso proprio andare cioè avete la la camera in palestra sì 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 il mio management Superbia ha preso una stanza tutto allora perché l'SBG allora fai fai come come suggeriva Marco Ruas il grande Marco Ruas che prima dei combattimenti non so se tu lo sai lui dormiva in palestra eh perché dice devi essere incazzato quando sali no io non è quello il motivo è perché non c'ho una lira per piena casa no però a parte gli scherzi questa è stata una cosa fondamentale perché eh vuoi mettere svegliarsi che poi è siccome la palestra l'hanno rifatta tutta l'hanno spostata proprio è tutta nuova e hanno fatto questo dormitorio con tre quattro stanze con in una sei letti in una quattro letti in quella da quattro letti le superbia ci ha preso tutta sta stanza e io posso andare quando mi pare e avevo già iniziato ad andare quando mi pare da già da settembre del 2018 no 2019 no 2019 scusa perché prima perché prima ogni volta mi dovevo trovare un ostello una casa condivisa spendevi un sacco di soldi e invece mo c'è sta stanza quindi avevo detto sai che c'è con sta stanza vado proprio dieci giorni al mese ogni mese dieci giorni vado avevo già iniziato poi a febbraio c'è stato il lockdown quindi ho dovuto ho dovuto smettere per il match questo qui non sono riuscito ad andare a fare la parte finale del training camp su perché c'è stato una serie di problemi vabbè c'ho avuto il covid pure io succede no vabbè c'ho avuto il covid non è che mi è già rintedistrato siamo in questo periodo quindi c'ho avuto c'ho avuto tanto da qua non si trasmette siamo totalmente a norma per questo non abbiamo le mascherine quindi non sono potuto partire poi ti lascio immaginare quanto tempo ci hanno messo prima dei fammi i tamponi cazzi e mazia mi hanno denunciato dentro casa mille volte perché qua c'ho il sacco c'ho la palestrina ho distrutto tutto perché dovevo combattere e stavo in paranoia dicevo come cazzo faccio quindi tra l'altro questa vittoria a me per me è contata tantissimo perché io metà camp l'ho fatto dentro casa praticamente eh cavolo tirando i pad con la mia ragazza io ho smontato le spalle la lanciavo ho fatto un casino però però dovevo fare qualcosa non potevo saltare il match e quindi non sono potuto andare in Irlanda come ha fatto Nico ok nella testa mia ho detto mo finisco il match e arrivato subito su per spingere subito hanno richiuso tutto mo dovevo aspettare vediamo che succede vabbè quindi però per il momento ti alleni diciamo da te in palestra sì sì che poi per carità fosse per me pure qua è top c'ho Andrea Fusi Andrea Maniaci Cristian Binda Botti mo si è aggiunto Francesco Morica cioè siamo in tanti abbiamo un bel team ci alleniamo bene Belluardo spesso viene a trovarci ci alleniamo benissimo però ecco è sempre meglio ogni tanto cambiare ambiente sparring partner e poi comunque in Irlanda io sono stato tre anni ma tre anni cioè dove veramente come nei film vivevo dentro l'SBG e cavolo dormivi lì cioè meglio di no no quando vivevo io ancora non si era spostata ancora no 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 io stavo con la mia fidanzata il cane avevamo preso casa per tre anni la mia fidanzata lavorava e io stavo tutto il giorno in palestra perché mi ero reso conto che fare avanti e indietro non c'era senso e allora ho detto facciamo finché dura fa verdura resto qua e niente sono andato in depressione però 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 è stato un periodo molto importante da vita mia ho fatto dei ho creato dei legami molto importanti soprattutto con John che è il mio coach John Cavan che grazie a lui la mia carriera ha preso sono sincero senza di lui non stavo al Bellator e probabilmente non avevo le capacità che avevo adesso bisogna beccare le persone giuste al momento giusto ma che mi viene mi viene in mente ma tu quando è che hai deciso di fare il professionista cioè come vai dopo il match con Marvin dopo il match con Vettori che era nel sai che non mi ricordo non lo so aspetta te lo dico subito che c'ho tutto quanto nel 2015 ok dopo il match secondo me pure un po' hai visto da Youtube perché hanno caricato dopo no su ShareDog eh allora perfetto è quello su ShareDog anche esatto sì sì allora è perfetto subito dopo ho deciso ma in realtà non è che ho deciso di diventare un professionista sotto tutti i punti di vista cioè nel senso allenarmi due volte al giorno e tutte le varie diridere perché io praticamente il match con Marvin l'ho fatto che la mattina facevo la mattina tutto il pomeriggio e la mattina portavo una l'autista facevo tipo l'autista a uno che c'era in azienda lo portavo in giro con la macchina l'autista eh vabbè l'autista no perché poi stavo a pensare che in realtà non facevo solo l'autista perché mi mandava Piafi a scuola facevo la spesa vabbè fa parte metto il maggior domo autista dai il jolly il jolly dai il jolly e la sera mi andavo a allenare a Norietta sai come un amatore normale e ho fatto quel match che è stato secondo me un gran bel match che però se io avevo una preparazione diversa che poi tu dici qual è stata la cosa più sbagliata nel match di Marvin non riuscire a difendere tutti quegli attacchi e proiezioni che faceva perché in realtà in piedi ero stato nettamente superiore si è visto e tu dici ma cazzo tu facevi judo grappling e non riuscivi a parare gli attacchi no perché quello che dico io se tu sei un ottimo wrestler nell'MMA non sei un ottimo wrestler perché il tuo wrestling all'interno della gabbia cambia da così a così certo c'hai un'ottima base non sei uno che inizia da zero però ogni disciplina all'interno della gabbia la box cambia da così a così non è vero che se sei un pugile professionista all'interno della gabbia metti tutti i capò non è così non è così cambia nella box cambia il guantino il guantone cambia la guardia nella box poi rimane in guardia così e stai coperto nell'MMA rimani così tutti i colpi piccoli esempi stupidi cambia tutto no no è una realtà c'è solo non so se hai visto di recente adesso negli ultimi incontri over him diciamo presso questo tipo di guardia no un pochettino così che sembra sempre efficace tranne nel caso con Rosenzgruig dove cazzo gli ultimi 5 secondi andare giù è veramente dopo che praticamente il match era suo però vabbè quello secondo me lo tiene così perché non si riesce più a muovere è troppo grosso è enorme no però nell'MMA non è sbagliato in realtà i colpi si parano io dico mettetevi il gel è una sorta di movimento per andare a parare con l'avambraccio il bicipite i canci questo qua allora siccome già siamo andati abbastanza avanti ti volevo chiedere le ultime due cose allora secondo te per quanto riguarda i fighter italiani in generale secondo te se manca qualcosa che cos'è che i fighter italiani in generale dovrebbero migliorare e che manca se c'è qualcosa che dice se miglioriamo questo subito ci alziamo rispetto alla media internazionale l'umiltà 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 è il senso di aggregazione non so se si dice così di appartenenza sì ma non solo dei fighter anche dei coach perché noi stiamo stiamo ancora con quella cosa che il coach è geloso a mandare l'atleta a fare sparring nella palestra vicina perché se no va lì magari vede che quelli insegnano cose migliori e se ne va da lui cioè abbiamo tutti ci hanno io no ci hanno tutti la sindrome del cazzetto io dico così ci hanno la sindrome del cazzetto perché se tu sei sicuro di quello che insegni e quello che fai devi essere solo contento se il tuo allievo va ad apprendere cose nuove che poi ti può riportare pure a te quindi non è che assolutamente oppure si va a confrontare con altri allievi perché si rimane sempre dentro la palestra tua dentro esatto sono sempre quelli i compagni di allenamento li conosci a memoria non riesci più a fare niente anche magari una peculiarità che c'hai te che con qualcun altro che non ti conosce riusciresti a fare in maniera molto buona magari con chi ti c'è allenato tutti i giorni lui lo sa che tu fai quello non riesci più a farlo e magari perdi quei spicchi artistici che c'avevi capito? quindi secondo me manca questo manca questo ah su questo guarda mi trovi totalmente d'accordo perché io da quando iniziai a insegnare già anni fa sono sempre stato così ma col pensiero che dico aspetta e qua ti passo un assist di Spartaco del maestro Bertoletti samurai che in una chiacchierata che ho fatto con lui lui mi disse una cosa che a tutt'oggi mi vengono i brividi perché comunque una persona di esperienza insomma di tanti anni dice il maestro è come il maestro di grammatica ti insegno la grammatica poi sei tu che deciderai se essere un avvocato un poeta o quello che sia cioè tanta roba c'è nel senso io ti insegno poi se vuoi continuare con me continui se io io ti posso arrivare posso arrivare qui ok adesso tu vai in quella strada ma io sono un maestro per tutti non per solo per quello ah perché l'ho fatto io eh sì bravo c'è sta cosa poi deve essere orgoglioso che lui è andato avanti e insomma sì questa è una cosa che poi secondo me fanno pure peggio perché prima o poi gli atleti i ragazzi almeno che davvero gli fai lavaggiare il cervello eh prima o poi se ne accorgono se ne accorgono che non sono stupidi soprattutto adesso che andiamo sempre più avanti c'è internet c'è Scatizzi che parla con Storm Fight con Francesco e dice queste cose dice cazzo ma il mio fa così quindi dovrebbero cambiare questa cosa secondo me e allora questo si allaccia perfettamente l'altra cosa che ti volevo chiedere ma io già le so tutte le tue domande quindi eh vabbè i pastoli ma lo vedi che sono professionista del settore l'altra che ti volevo chiedere è riferito ai giovani che ti stanno guardando quindi al 14enne al 15enne cioè tu che magari sai potrebbero dire ma io da grande vorrei essere un futuro Scatizzi o non lo so fare il professionista tu che cosa gli consiglieresti ecco ma sì ma me lo scrivono anche spesso i ragazzi innanzitutto non mi iscrivete più ho 18 anni è troppo tardi che vengo dove vivete voi e va a mazzo perché no non è troppo tardi non è vero perché ormai ragazzi cioè posso fare l'esempio di mille atleti che stanno uscendo e spiccano soprattutto nell'MMA in un'età di 32 33 cioè quindi non è vero che c'è quella cosa dell'età certo non è che inizi da zero ho 29 anni ti mando a fanculo non è certo stiamo parlando 14 anni 20 anni dai ecco dai fino a 20 però è così anche se non mi ricordo ma mi pare che credo sia Marcant Marcant inizio a 21 anni dopo che dopo un'arvista l'anno pre Marcant minchia guarda che è arrivato a fa però dico quello è un caso a parte è certo però certo soprattutto se è un sogno un desiderio che avete cercate come fanno tutti non create troppe subito parto vado in America iniziate piano piano la palestra che c'è sicuramente tanto ormai l'MMA è abbastanza anche di moda passate la mia parola quindi ormai ci stanno parecchie palestre che provano a fare MMA iniziate a fare MMA all'interno della vostra palestra se riuscite ad avere tempo che magari fanno solo tre lezioni a settimana come quasi tutti i corsi integrate con il BJJ con o sì io direi con qualcosa di lotta perché è un po' più difficile da prendere rispetto allo striking ai cazzotti diciamo perché è veramente complesso quindi integrate con qualche altro sport di lotta che sicuramente anche quello è molto famoso ultimamente quindi lo trovate e poi piano piano in base a perché poi può essere che voi avete il sogno di diventare un qualcuno che poi non vi piacerà essere magari vedete McGregor e poi magari dopo un anno di sacrifici allenamenti dite oh ma io non voglio fare sta cosa ok quindi è inutile che vi costruite piano piano secondo me le cose vengono step by step poi vengono da sole secondo me vengono da sole certo dovete prendere decisioni giuste ottimo è stato secondo me proprio super professionista anche nella descrizione del di tutta è perché ho fatte tutte io quindi ormai le so infatti ma infatti io vedi il discorso è questo essendo che ritengo che il canale avere un canale buono per poter dare delle comunicazioni e poter avere delle persone come te che danno dei suggerimenti io immagino il ragazzino che ci guarda e dice ho visto scatizzi è stato fortissimo io pure di qua ma come faccio ecco Daniele dà la sua soluzione a quello che può essere una domanda di queste qua devo dire soprattutto scusa per chi fa già MMA e che già c'ha un buon livello non imitate gli altri fighter non imitate scatizzi non imitate soli non imitate McGregor perché non siete soli non siete scatizzi non siete McGregor siete voi stessi ma non solo nel modo di anzi soprattutto nel modo di combattere nel modo di combattere nel modo di di relazionarsi di esporsi con la gente siete voi stessi bravissimo perché di McGregor ce n'è uno e se tu entri in gabbia a fare McGregor non ci riesci a fare McGregor ok chiaro chiaro e la vedo spesso sta cosa mi rode troppo ma non mi rode perché perché dico cazzo vedi sto ragazzo è tanto bravo però se insiste a voler fare quella cosa perché la fa Khabib quando magari qui era meglio andare a fare un altro lavoro perché io so esperienze due personali diciamo no allora io non ho mai emulato nessuno devo dire la verità su quello sono sempre stato no ma a proposito di questo mi viene da ridere perché con con Nicolò dicevamo che siete due opposti perché quando allora quando per piccola cosa quando avevo avuto con Nicolò la prima cosa è che mi ha mi ha sorpreso e ho detto ma io ho chiamato Nicolò ho chiamato un avvocato ciao Francesco ciao Francesco cazzo ti ho visto l'altro ieri let's go let's go ma si guarda Francesco ciao io sono cioè Ying e Yang dottor J che mi estrai invece quando invece quando io ho visto te quando tu entrai sei molto più buono sorridente nell'entrata no più tranquillo più relax infatti dicevamo ho notato che tu quando entri sei molto aggressivo Daniele invece è molto più tranquillo sorridente poi menate tutte e due come due tir a piena velocità ma dico come inizio è un attimino così ma si però Nico ha sempre avuto quella cosa di lui sta se stiamo nei spogliatoi prima del match quattro ore lui sta quattro ore a strillare let's go let's go e io mi favo ma hai rotto il cazzo Nico sta attenzito ma pure tutta la settimana ogni tanto si ricorda che io so stiamo in camera a giocare a play siamo stati insieme durante la settimana siamo in camera una certa si vede che si ricorda che è dei combatti si alza comincia a fare shadowboxing e strilla e io gli faccio c'è Nico lui è così si carica così ogni tanto si scarica in quel modo che è il metodo suo che è il metodo suo bravo io invece modo mio è non pensarci proprio così e allora direi direi che voi due calzate proprio a pennello fratelli di combattimento con due stili totalmente diversi totalmente diversi quindi voi che ci state ascoltando e state ascoltando i suggerimenti di Daniele siate voi stessi e allenatevi a testa bassa direi no? eh soprattutto soprattutto va bene Daniele sei stato gentilissimo ti ringrazio se sei stato qui con me a Stonefighters TV a raccontarci un po' le tue vicende grazie a te e niente ci rivediamo quanto prima quando vuoi un abbraccio ciao a tutti Stonefighter TV Stonefighter TV Stonefighter TV Stonefighter TV prendi un destro e un sinistro e forse un loki sei sul magico schermo di Stonefighter TV c'è la Fauci Francesca non ti perdere il film se non ti piace la lotta non passarci da qui Stonefighter TV Stonefighter TV lla